ragazzi finalmente torna questo torna l'inter questo io lo associo all'inter basta chi facesse piacere iscrizione al canale è gratis più la campanellina poi fate come vi pare è sempre tutto gratis sia che vi iscriviate che no ti dico una cosa mercato dell'inter me l'avete chiesto tante volte è giusto che io mi esprima perché prima di Pavard anch'io io non ci devo nemmeno più a Pavard sono sincero quindi Pavard ha scelto il numero 28 tra l'altro quindi ha già scelto il numero è già pronto vai in panchina gran bel giocatore come fai a criticare Pavard migliora la difesa dove ho sempre detto l'inter doveva investire in difesa subito dopo in attacco ci manca un nove lo sappiamo tutti ma con questi pochi soldi se io devo valutare il mercato di un presidente chiamiamolo presidente che non ha portafoglio perché poi ragazzi dire che è stato abbiamo venduto per cento e sono usciti cento non è vero sono tutti pagherò a cui non farà fronte lui quindi non sono usciti tutti quelli che sono entrati quelli che sono entrati parecchi anche dei soldi della Champions League sono finiti nella voragine debitoria ma a parte quello io quest'anno avevo detto volo basso ero ero contentissimo di scamarca ma non perché ieri aveva fatto quasi una tripletta io quest'anno volavo volo basso e ti dio e nel complesso peccato non ci sia un nove killer lì davanti nel complesso l'inter ha tirato su per l'italia ti dio una squadra di tutto rispetto e finalmente e vedo un centro campo alla mancini ovvero sia vedo tutti i giocatori a cui questa vedi non scotta e questa è una cosa che a me piace perché l'inter quest'anno dal centro campo dovrà trovare anche dei gol motivo per cui secondo me è arrivato classen un centro campista con il vizio del gol parliamo di più di cento gol in quattrocento in rotte partite eh perché la punta è nove non non lo potevi prendere per un discorso di budget allora cerchi i gol dai centrocampisti dagli inserimenti centrocampisti quest'anno dovranno fare dovranno fare meglio eh chi gioca al centro campo ragazzi sei sette gol bisogna farli a testa bisogna tirare di più bisogna eh andare più in inserimento bisogna trovare un modo per cercare i gol dai centrocampisti quindi io ti dio e alla fine sono per le possibilità economiche noi abbiamo discritto da un anno e mezzo ti dio e alla fine l'inter ha tirato su una squadra discreta con un ottimo centrocampo poi anche lì manca il box to box manca il centrocampista fisico ma in Zagli non sempre ha giocato con il centrocampista fisico lui aveva Lucas Leiva alla Lazio e poi dopo ha giocato sempre con calciatori eh preferendo diciamo la tecnica alla fisicità quindi puoi anche sopperire alla fisicità al centro campo dipende da come giochi non è che tu devi essere per forza due metri per giocare a centro campo e nemmeno devi essere un metro e sessanta dipende un attimino da come giochi e da quali qualità sfrutti e su quali qualità punti questo è il primo test importante anche perché io sono di Firenze lo saprete ce l'hanno a morte con noi loro non ci possono vedere non possiamo vedere noi la Roma e Napoli e la Juve siamo tra quelli più odiati la finale di Coppa Italia gli è rimasta qui e vi garantisco che loro oggi daranno il quattrocento per cento allora italiano è un ottimo allenatore anche loro hanno qualche squalificato Castrovilli Barac Maxime Lope che è squalificato e non possono utilizzare ma eh comunque eh avranno un undici discreto da presentare a San Sino e io ti dico una cosa bisogna stare attenti alla Fiorentina soprattutto per il pressing e la pressione che fanno perché eh fanno un pressing sono degli assatanati e tra l'altro hanno anche gente che sa giocare a calcio dove punteranno loro oggi te lo ricordi Icone quando ci fece gol che in velocità a Cerbi non lo vedeva nemmeno perché succedeva quello perché loro rifaranno questa storia qui giocheranno molto probabilmente uno quattro due tre uno esterni Nico Nico Gonzales e Kwame due velocisti due forti tecnicamente soprattutto l'argentino quindi osafaranno cercheranno di farci allargare la difesa perché sappiamo tutti con Pavard la nostra difesa acquista anche velocità ma ad oggi l'interno ha una difesa statica quindi i difensori sicuramente non rispendono per la velocità che hanno quindi cosa faranno cercheranno di farci allargare la difesa e di puntare uno contro uno con gli esterni nel mezzo occhio all'argentino il vichingo come lo chiamano qua a Firenze vichingo perché c'è la barbetta rossa è chiaro di pelle sembra un nordico per quello lo chiamano il vichingo ma già lo chiamavano dapprima il vichingo perché Betram è un centravanti fortissimo che sa giocare a calcio forte tecnicamente viene viene giù a dare una mano è veramente infatti l'hanno pagato circa 30 milioni questo ragazzo no lo voleva anche la roma di bala lo voleva portare alla roma molto amico di di bala occhio perché davanti sono pericolosi io te lo dico quindi bisogna bisogna stare attenti fare altri tre punti e poi andare tra virgolette a riposo per le nazionali sarebbe a pipa di cocco e quindi vediamoci questa bella partita le sei e mezzo vedo l'ora che arrivino le sei e mezzo perché secondo me sarà una bella partita tra l'altro Beltrami centravanti della Fiorentina a doppio passaporto e Mancini lo seguiva da tanto tempo spero lo seguo anche Spalletti ma Spalletti essendo di Firenze già soprattutto su questo Beltram perché ci potrebbe fare anche comodo ora io non so come qual è il vostro punto di vista su su tesserare i giocatori argentini non sono italiani al cento per cento per me non ci sono problemi siamo tutti uguali quindi c'è tra avanti della nazionale italiana ti ricordi quando io ti dicevo prendiamo Scamarca ma no perché ha fatto tripletta ieri parte Scamarca ha fatto ha fatto doppietta ma non giocava da sei mesi attenzione eh dagli un po' di tempo perché secondo me Scamarca era uno dei candidati per diventare titolare della centravanti titolare della nazionale io quest'anno mi sarei accontentato anche di Scamarca ci sono i video che lo testimoniano quindi ti dico Beltram è un altro bel centravanti che potrebbe far comodo alla nazionale anche se per me ragazzi con tutto rispetto per chi la adora la mia nazionale è l'Inter le emozioni che mi dà l'Inter la nazionale italiana a me non me le dà e quindi io ti dico bene Classen secondo me Classen sarà uno dei primi cambi perché può giocare dappertutto quindi ripeto bisogna sfruttare quest'anno a maggior ragione visto anche ogni gioco di prima e fatturam perché ragazzi nessuno lo dice turam prende i falli gioca di prima eh ti rea superiorità numerica riesce comunque a darti a livello fisico profondità e tanta roba poi questo ragazzo deve trovare i gol tornando a turam lo sappiamo tutti noi non gli daremo tempo incomincieremo a criticarlo ma non fa gol ma anche lui perché si è messo i nove sulle spalle lui non è un nove lui doveva prendere un altro numero anche lì con quel numero però ti dimostra la personalità che ha questo ragazzo poteva scegliere un altro numero ha detto datemi il nove di cieco vuol dire assumersi le responsabilità attenzione ma lui ancora non è un nove sta studiando da nome però sono fiducioso perché ho visto nelle prime due partite indipendentemente dal livello di difficoltà del Monza del Cagliari io ho visto un Inter quest'anno già sul pezzo bella tosta feroce quindi sono fiducioso per la partita di oggi ci becchiamo più tardi ciao Inter